ciao ragazzi buongiorno io sto con va bene allora oggi direttamente dal letto perché ancora mi alzo il sabato della domenica ve la prendo proprio scusate no con comodissimo perché magari mi vedo delle puntate il giovedì mi vedo i grandi fratello il venerdì mi vedo cioè mi vedo la trevisione insomma mi vedo la trevisione e non vado a dormire presto e quindi mi alzo tardi questo non è una giustificazione ma è per dire per insomma allora niente e oggi stavo pensando cioè stamattina stavo pensando a questa mia patologia e a porco di e la madonna di merda e tornando indietro col tempo mi sono non un po' spaventata però mi sono rivenute in mente delle immagini che mi hanno un po' cioè mi hanno letteralmente turbato anche perché ragazzi voi dovete a porco della madonna sapere che in questo percorso della mia vita da quando ho avuto questi primi tic tic a porco della madonna adesso ci è stata un'evoluzione che io posso un'evoluzione sia in più e in meno cioè nel senso poi vi spiego cioè allora da quando ho iniziato a avere questi tic a sette otto anni i primi tic no leggeri quelli che magari a porco della madonna hanno un po' tutti no strizzare l'occhio tirare la pelle cioè tirare la pelle tirare così un pochino il viso no e fino ad oggi che ho 57 anni ti fai un resoconto però a porco della madonna rivisiti alcuni momenti e alcuni episodi c'è tanti episodi no alcuni tanti 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 che ho scritto anche nel mio libro nel libro che ho scritto non potevo giocare a nascondino perché perché è chiaro che tutti mi tanavano no e quindi tana sabrina tana liberi tutti e ripresa un po' la frase da da un film che la mia fedele compagna allora che poi mi è venuta di botto non stavo manca a pensare che avevano fatto quel film però mi è venuto così allora ragazzi quello che volevo dire che è un po' difficile dirlo perché non è che riesci bene a spiegare questa a porco della patologia un po' bizzarra io la chiamo birichina perché comunque a volte ti fa fa un modo a volte ti fa fa un altro io mi ricordo quando ero ragazza avevo più tic diciamo facciali tic con il corpo no perché io mi contraggo tutta ma ferma delugenta che fai anche quando ho dei cazzotti forti è comunque una contrazione perché il fisico si contrae tutto tu dai il cazzotto oltre che ti fa male la mano perché comunque fa male cioè tante volte io mi si addormenta proprio le mani e mi faccio talmente male che mi creo delle contusioni e poi facendo così ti incricchi tutti i nervi insomma il thing sempre a porco della madonna le cervicalate a tremila però quello che mi sovviene più cioè che mi viene più in mente è quando porco della madonna di cristo tutti quanti mi chiedono ma oggi stai più nervosa cioè queste le domande che mi fanno spesso e le persone che mi stanno intorno ma oggi sei più nervosa e magari io no anche no cioè gioisco per qualcosa sono felice però magari questa adrenalina che ho della gioia mi fa fare più tic vabbè non lo so cioè che secondo me nemmeno i medici eh porco dio riescono a dare una spiegazione proprio più cioè diciamo appropriata perché non è che si può capire bene quando ti vengono e quando non ti vengono io da persona affetta a questa cosa mi rendo conto che è difficile io mi sono accorta che quando sto particolarmente agita nervosa non nervosa sto delusa sto triste i tic mi vengono di meno cioè perlomeno a me mi fa così cioè io parlo della mia turrette come sempre non della turrette in generale io parlo di quello che succede a me perché non travisiamo che poi uno dice lei capisce ah porco dio lei spiega la turrette no io spiego che cos'è per me poi agli altri ognuno gli fa in un modo diverso chiaro e logico perché siamo persone diverse ognuno gli prende una maniera per esempio a me ha iniziato a prendere delle frasi che tante volte mi ricordo tipo che ne so la signora che dà fastidio il piccione che fa la cacca per terra io dico ah porco dio io dico ah ti ricordi Sabri quando tu dicevi i piccioni che volano ah porco dio i piccioni che volano e lì al lavoro i miei amici dove lavoravo facevano ah i piccioni che volano a Venezia poi ci mettevano un po' nell'oro per sminuire un po' questa cosa e sdrammatizzare un po' questo mio status status vabbè c'è un po' un po' però c'avevo questi ricordi e li volevo esprimere questi pensieri più che ricordi e magari tante volte ragazzi mi sono trovata a me a giustificarmi su questo mio queste cose che mi succedevano tipo che ne so magari e vabbè ma mo sei andata al morto ti sei stata zitta e mo perché li stifà cioè tante volte mi sono trovata io una circostanza molto di che ne so di silenzio tutto quanto io magari ho fatto solo i gesti i gesti con il viso allora c'è gli attacchi li ho avuti sempre quelli che noi chiamiamo haters li ho avuti anche ma perché mo mo ti sti nervosi di botte a porco di ella madonna di chissà e io non capivo cioè mi sentivo quasi in imbarazzo mi sento quasi in imbarazzo a spiegare perché cioè quello che vivevo adesso molto di meno perché cioè molti li mando a fanculo scusate il termine e dico altri non rispondo e e magari affronto le cose diversamente sicuramente però affronto le cose sicuramente diversamente e e grazie a Dio che ho trovato a porco di della madonna questa forza di diciamo di autoproteggermi di difesa perché comunque a volte non è che come un ragazzo che è invalidante parliamo degli invalidi allora si prendono in considerazione cioè io mi sono dovuta trovare sempre a difendermi da questa patologia cioè è una cosa assurda però comunque mi è successa e penso anche agli altri ma non lo so io parlo per me parlo per me che voi sapete quanti haters si ho che dici non lo fai a porco di house lo fai a posto lo fai a posto c'è due coglioni così grandi due coglioni così tanto tanto intensamente ti amerò poi il fatto che io ci gioco oggi con questa cosa a volte la fa risultare poco veritiera ma questi cazzi non ce ne frega niente allora tornando a bomba dicevo che a volte mi sono trovata in imbarazzo come per Dio Dio ma mo magari ha visto che non mi è venuto mo mi aggredisce dicevo allora perché strillate in quel contesto ma cioè mi sono trovata diciamo tempi addietro mi sono trovata anche a dover giustificare no a dire ma che ne so cioè forse stavo c'è là non lo so non so che parola ho trovato per dire però quello che volevo esprimervi il concetto unico e principale a porco di alla madonna di merda che a differenza delle altre patologie che comunque sono diciamo ecco una persona che ha la sindrome di Down non è che si deve giustificare perché comunque ha questi tratti del viso o a modo di comportamentale no o altre patologie io mi sono sempre dovuto giustificare questa è una cosa strana ma vera sempre ma ma perché c'è più nervo a porco della madonna poi il fatto della blasfemia cioè il fatto della coprolalia che ripeto un'altra volta per chi approccia in questo momento nei miei video chi approccia in questo momento nei miei video non significa un cazzo chi vede per la prima volta questo video la coprolalia ragazzi è una derivata copros la parola gammel greco come se mi è piaciuto copros è emissioni di parole blasfeme e senza senso a porco dei capelli down perché io tante volte dico parole senza senso poi mischiandoci anche la blasfemia che è quello che diciamo per chi come me crede in un dio in un in un in un contesto religioso ecco diciamolo così la madonnina però è strano che San Giuseppe non lo dica la madonna Gesù e tutto il resto e i saldi pagarono strano solo Dio e la madonna infatti è strano questo qua però una volta andai a Milano dove c'era anche il dottor Porta in una a porco dei capelli in una in un pranzo di beneficenza il dottor Porta è quel professore che è venuto con me da Magalli che l'hanno invitato da Magalli non è che è venuto con me comunque quando sono andata io a fare l'intervista e una signora invece mi diceva che il figlio ha detto signora guarda faccio queste parole la signora mi disse lo ridico sempre questa cosa e la signora mi disse che il figlio faceva pure le canzoncine con Gesù San Giuseppe e tutto quanto a me invece sono la madonna e Dio per meno male e questa è una cosa che si ripete da tanto però prima avevo altre parole blasfeme quindi a porco di la madonna quando è subentrata anche la coprolalia le cose sono peggiorate perché uno dice madonna ma perché è così 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 e insomma e e meno male e meno male che quando ero ragazza la coprolalia non l'avevo cioè ecco queste erano riflessioni che stavo facendo a porco della madonna perché vi immaginate dentro il pullman della scuola io facevo pure queste bestemmie però strillavo quando per esempio avevo ero toscodipendente voi sapete ho avuto questa esperienza da ragazza poi sono andata in una comunità e ho cancellato anche questo capitolo ho cancellato a livello di dico di valori che ho ritrovato e di sani principi in cui vivo attualmente bene o male ma non non è che mi sono scordata quelle che sono fatte insomma ho cambiato modo di vivere e tutto quanto e quindi mi sono allontanata dalle sostanze e quel modo di vivere e di pensare grazie a Dio a porco della madonna però quello che hai fatto non te lo dimentichi mai cioè ti vengono dei flash a volte ragazzi improvvisi che ti fanno ti stizzicano ti cioè tante volte se mi giro indietro mi faccio cioè mi fa paura quel quello che ho vissuto perché non è che me lo ricordo me lo ricordo a spezzoni a flash in delle situazioni che cioè sono sempre porre che finisce il tempo quindi sono sempre agitate scusate se mi esprimo male però penso che mi capite che stavo dicendo in quel periodo strillavo 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 e mi dava forse quella sostanza che prendevo mi dava questo bobom questa botta che mi faceva strillare infatti mia madre mi riconosceva quando passavo perché strillavo e quindi passavo di vicino casa perché me n'era andata di casa comunque quello che volevo dirvi è che vi immaginate quando ah porre che io avevo poche difese come persona strutturalmente mentali strutturalmente mentali che cazzo significa cioè che avevo poche difese dopo quando c'è un porre che finisce il tempo sempre questo mi fa perché questo cazzo telefono è proprio antipatico finisce il tempo si stutta si ferma allora e quindi immaginate da ragazza se avevo pure queste cose io tante volte dico madonna come avrei fatto a difendermi come faccio adesso perché adesso ho una esperienza innanzitutto diversa una una coscienza diversa un modo di insomma sono più grande sono cresciuta e quindi mi difendo diversamente da quando ero ragazza e immagino al porco di merda immagino quei ragazzi e mi stanno talmente a cuore mi fa piangere questa cosa quei ragazzi che vengono bullizzati di continuo perché ho conosciuto molte storie per questo modo di di fare di avere la coprolalia nella sindrome turrette e vengono veramente bullizzati ragazzi e niente io ho voluto fare questa riflessione con voi e spero che quello che io dico della mia turrette di quello che mi succede a me con la sindrome turrette a porco di io possa sempre possa sempre far capire alle persone che è una sindrome molto diversa molto bizzarra tante volte mi scrivo ma io conosco una persona non fa come te ma non fa come me perché non ce l'ha come me la sindrome turrette non è uguale per tutti e questo vorrei inculcare nel cuore di tante persone che vedono i video e magari entrano sempre con a porco di e la madonna chissà sempre con la prima parola che gli viene in mente dice riflettiamo ragazzi prima di parlare riflettiamo almeno non dico con date fino a dieci ma almeno fino a cento e non entriamo sempre di pancia a commentare entriamo soprattutto con l'intelligenza che abbiamo l'intelletto è molta anima e il cuore io vi saluto spero di essermi spiegate perché sto come qua bom 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 ciao a tutti ciao ah non mi si chiude perché dìgame ciao a tutti Grazie.